30 edizioni di una manifestazione che ha molta storia dietro di sé, non c'è alcun dubbio, unica in campo nazionale, obiettivamente oggi si colloca in una condizione di mercato che è di difficoltà, situazione pesante, anche perché non sono venuti avanti i provvedimenti governativi che erano stati preventivati, promessi e non mantenuti e questo va detto anche con forza. Confidiamo però che attraverso questi provvedimenti e probabilmente anche un'impostazione chiara che continui naturalmente a fare la guerra al gioco illecito, irregolare eccetera, ma salvi le regole fondamentali di un gioco sano, attraverso questi provvedimenti speriamo che si possano chiarire gli scenari di prospettiva in cui una manifestazione fieristica che ha il diritto ad esistere possa chiaramente fare la sua competizione anche a livello internazionale.